E' stata agitata l'ultima settimana e specialmente di notte a Caolonia Marina e Rocella per via di azioni delittuose molto probabilmente appartenenti alla stessa mano. Dopo le due del mattino, in giorni successivi, i gnoti hanno scassinato due bar e una macelleria a Caolonia Marina e in pieno centro e successivamente, anche in giorni alterni, due bar e ristoranti a Rocella Ionica. In tutti gli scassi, probabilmente a colpi di martello o mazza, i ladri o il ladro si sono accontentati di pochi euro rimasti in cassa, prima di darsi ovviamente alla fuga. Paradossalmente sono stati più i danni provocati agli infissi per l'intrusione che le somme rubate dalla cassa. Sulla vicenda indagano i calabinieri della compagnia di Rocella Ionica e le stazioni di Rocella e Caolonia, dopo la formalizzazione delle denunce dei titolari che hanno cercato di dare più dettagli possibili. Intanto, in queste ore, le forze dell'ordine stanno analizzando i filmati delle telecamere a circuito chiuso, sia quelle private e sia quelle degli enti comunali, che potrebbero ovviamente dare a breve un volto ai malviventi.